Una struttura che rappresenta un'eccellenza della sanità regionale e per le altre regioni, per la missione che ha, con numeri importanti in termini di crescita, di attività, di risposte, di servizi. E' bello raccontare quello che abbiamo di buono, quello che facciamo di buono nella nostra regione, soprattutto a favore dei più piccoli che ci colpiscono in modo particolare in termini di attenzione. Abbiamo risultati importanti, crescita significativa in tutte le prestazioni, dall'occupazione dei posti letto al numero di prestazioni motoriali ai ricoveri, segna una forte vitalità di questa struttura. Da due anni a questa parte il Salesi, come oggi sottolineiamo con i nostri dati, è ridiventato un punto di attrazione sia dentro la regione Marche, per tutte le aree della regione Marche, sia per tante altre regioni italiane, Puglia, Abruzzo, Molise, Umbria e anche Emilia Romagna.